Comincia ormai il countdown per le Olimpiadi di Rio e iniziano così ad accendersi riflettori sulle prestazioni degli atleti provenienti da tutto il mondo. Sportivi che ripongono le proprie speranze mesi e mesi, se non addirittura anni di preparazione in una gara, la grande occasione di conquistare l'oro. Eppure, in un momento in cui si parla di sport, si discute anche di temi che gettano delle ombre in un mondo che cerca di trasmettere valori importanti, soprattutto nei più giovani. La pratica del doping è sempre più diffusa per raggiungere e superare determinati livelli, eppure può essere molto dannosa. La definizione doping è l'uso di qualsiasi sostanza che altera le funzioni, quindi provoca una modifica dell'attività, dei risultati. Quindi la definizione che è stata fatta tanti anni fa è questa. Quindi l'uso di qualsiasi sostanza che altera la normale attività. Il doping, ci sono tante sostanze, diverse categorie di sostanze. I principali sono gli ormoni, gli anabolizzanti. Poi abbiamo altre sostanze, tipo farmaci che vengono usate in cardiologia, che però usate in alcuni sport che vengono considerati doping, tipo i betabloccanti. Il diuretico è considerato pure doping, i cortisonici sono pure doping. Infatti i ragazzi che per motivi di salute fanno uso di cortisono devono dichiarare e devono avere una certificazione, perché l'eccesso di cortisono può provocare doping. Quali sono? A secondo le sostanze avremo dei danni a lungo termine, ma anche a breve. La cosa peggiore sono gli ormoni, gli ormoni che possono bloccare la crescita, possono provocare nelle ragazze virilizzazione, possono provocare nei maschi sterilità. Mentre altri farmaci hanno anche altri effetti. Il diuretico, il diuretico viene usato da sport come pesistica per diminuire di peso e passare da categoria, nel pugilato. I betabloccanti negli sporti d'attenzione, però il betabloccante è un farmaco cardiologico, quindi usato in soggetti sani può provocare gravi danni. A lungo termine possono anche provocare danni seri. Poi, anche gli stessi integratori, ci sono integratori diversi, ci sono quelli che contengono i sali minerali, ma ci sono quelli che contengono amminoacidi. Molti ragazzi considerano gli amminoacidi le sostanze che si possono prendere tranquillamente, invece no, perché l'eccesso di amminoacidi provoca dei danni a livello renale. E quindi con l'andare del tempo possono andare incontro a ipertensione, anche a insufficienza renale.